La cooperativa sociale Cercate ha inaugurato Loreto nella pensione Piemonte una serie di spazi destinati a famiglie e pellegrini, spazi inseriti nel contesto di questa struttura e che si pongono al servizio dell'accoglienza concreta. Il Vescovo di Loreto Fabio Dalcin ha definito l'iniziativa luogo di attenzione concreta per agevolare la presenza delle famiglie. Penso che non sia solo l'impegno della Chiesa, del Santuario in questo senso, ma anche di tutta la comunità civile, anche di queste strutture recettive che si pongono al servizio della famiglia, dell'accoglienza concreta, per esempio dei bambini con delle famiglie e quindi che agevolano questa presenza delle famiglie accanto a un luogo di spiritualità che è fondamentale proprio per riscoprire la bellezza, la fortuna del matrimonio e anche per riprendere coraggio, per riprendere forza ad affrontare la vita ogni giorno. Oggi è una giornata importante perché aggiungiamo a un servizio già sperimentato ormai da quattro anni una serie di iniziative che sono a favore delle famiglie. La cooperativa Cercate ha voluto interpretare positivamente anche con consci della fatica di venire a fare un'esperienza a Loreto proprio perché intravedeva una possibile sfida positiva perché Cercate e la congregazione della Sacra Famiglia di Savignano abbiamo in comune la voglia di fare un servizio alle persone e un servizio alle famiglie. Tra i progetti presentati le stanze amiche delle famiglie numerose per accogliere i nuclei familiari con più figli, quella per gli ospiti diversamente abili, l'area giochi per bambini e lo spazio mamma dove poter prendersi cura dei più piccoli preparando per esempio loro da mangiare con attrezzature idonee. Completano l'offerta la sala della buona lettura, quella destinata agli amici della bicicletta e la sala per conferenze e momenti di spiritualità.